Oggi desidero accompagnarvi in quella che è la fase di design, uno dei momenti più stimolanti e creativi di un progetto, nel corso della quale si uniscono le competenze ingegneristiche con quelle delle conoscenze dei materiali, per concretizzarle con la cura per il dettaglio e per il gusto estetico. Mi chiamo Davide Temporin e sono responsabile dell'area bodywork dell'ufficio tecnico Agritalia. Al reparto ingegneria appartengono in primis i progettisti meccanici ed elettronici, più lo staff di supporto che regola e gestisce il flush dei disegni e della documentazione. A coordinare i lavori di ingegneria ci sono i project manager, ai quali vengono affidati i progetti di nuovi trattori. Nella fase di design le idee dei nostri progettisti prendono forma in disegni in distinte basi. Il tutto avviene in osservanza di tutti gli standard normativi ed ergonomici. A supporto di chi progetta ci sono molti strumenti, tra i quali ad esempio analisi FM e CFD, su telai, sistemi di raffreddamento e discarico gas, analisi NVH di vibrazioni, verifiche di assemblaggio e service ability fatte a virtual 3D, simulazioni di movimenti meccanici, sollevatori front loader, movimenti della sale anteriore con loro rupte. Una combinazione quindi di competenze e di supporti altamente tecnologici che insieme contribuiscono a realizzare prodotti che devono essere allo stesso tempo funzionali, di qualità, performanti, confortevoli, facilmente gestibili in assistenza post vendita e belli.